Non un raduno per bearsi di eleganti teorie sulla solidarietà, tanto alte quanto slegate dai bisogni reali di quella parte di umanità che chiede aiuti veri, concreti. La volontà dichiarata è di incontrarsi per aprire gli occhi e il cuore. Il Festival della Dottrina sociale a Verona dal 26 al 29 novembre approda la quinta edizione facendo proprio l'invito appello del Papa espresso nel videomessaggio inviato ai partecipanti. La spinta ad allargare il cuore per evitare di intossicarlo con la medicina dell'indifferenza, quella che ci protegge, dice, dal coinvolgimento. Chinarsi sull'altro è il modo più diretto per allargare il cuore, ascendere l'amore, ispirare il pensiero, inventare risposte concrete e inediti ai problemi. La sfida della realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contraposte. C'è una passione che anima ideatori e partecipanti al Festival Veronese, la promozione del bene comune secondo i valori cristiani contenuti e annunciati nella Dottrina sociale della Chiesa, che nell'edizione 2015 vogliono lasciarsi sfidare dalla realtà. Il perché lo spiega il coordinatore del Festival, Monsignor Adriano Vincenzi. La dottrina sociale è sfidata perché sente il grido dell'uomo, il grido del povero, sente il grido della terra, sente il grido dell'ingiustizia. Quindi è sollecitata naturalmente dalle situazioni nelle quali l'uomo si trova oggi. Perché la grande prospettiva della Dottrina sociale è che guarda in avanti, apre, crea futuro. Per rispondere all'imperativo della concretezza, al Festival, spiega Monsignor Vincenzi, vengono presentate esperienze maturate con i giovani in cerca di lavoro, nell'accoglienza e l'integrazione dei migranti, con le banche perché la ricchezza da loro prodotta sia a vantaggio della gente. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non è possibile crescere aumentando le chiusure. Bisogna che noi abbiamo il coraggio di rilanciare la prossimità, cioè le persone che incominciano a rendersi conto della situazione in cui si trova colui che sta accanto, colui che abita nello stesso condominio, colui con il quale io mi trovo a lavorare. Quindi mi sembra che ci sia il grande rilancio della prossimità. È preferibile essere flessibili per rispondere meglio ai bisogni concreti, che difendere le strutture e rimanere ingessati. Fare un po' di pulizia, aumentare la trasparenza, recuperare freschezza, genuinità e agilità fa bene alle strutture e alle persone. Grazie.